Oggi chiarezza? Allora, ad oggi, dopo la sentenza di primo grado si ferma la prescrizione. Questa è la legge oggi, cioè voi dovreste trovare un accordo per cambiarla. Come la volete cambiare? Oggi è stato molto importante perché tutta la maggioranza ha deciso entro una settimana e dieci giorni di assumere una posizione comune. Il tema per noi non è solo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma dare la certezza, se si rimane così, che però ci siano tempi certi per i processi. Perché per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, non si può rimanere sotto processo a vita o aspettare giustizia a vita. Però come fa a dare la certezza che scade il processo? Questo è l'oggetto della discussione, che è la riforma del processo. E in tempi certi, per cui c'è una certezza ragionevole di una sentenza entro un tempo umano, si può aprire una discussione. Ragionevole, quindi non formale, perché finisce entro un tagliolo.